Alexa? 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 Ma s'altro che sorda! Alexa! Porca miseria! E adesso? Riconcella! Tranquilli, ci pensiamo noi! Allora ragazzi, se avete visto che il vostro dispositivo non risponde più alle vostre richieste, se vedete che non funziona più nulla, siete disperati, se per caso volete anche solo semplicemente spostarlo in un'altra casa, oppure regalarlo, oppure comunque lo volete ripristinare, semplicemente vi basterà seguire queste indicazioni. Ci posizioniamo col nostro bel ditino sul tasto azione e lo teniamo premuto per circa 25 secondi. Modalità di configurazione attiva. Segui le istruzioni nell'app Alexa. Come avete sentito, il dispositivo viene ripristinato e vi chiederà di rifare tutte le impostazioni dall'inizio. Come avete potuto vedere, vi abbiamo dato una soluzione se per caso volete regalare il vostro dispositivo a qualcun altro. Non vi risponde più come ha fatto a me all'inizio. Riconcella, come diceva Marco. Perfetto, si è riconnessa. Siamo contenti così. E quindi con questo semplicissimo video vi abbiamo spiegato come poter risolvere questo problema annoso che a volte purtroppo può capitare per vari motivi. Per questo video è tutto ragazzi. Speriamo di essere stati utili. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di dare uno sguardo ai link qui sotto. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.